Con Valleo sostituisci il tuo filtro aria pannello facilmente. Per cambiare il filtro hai bisogno di stracci, guanti, detersivo, cacciaviti, nuovo filtro. Alza il cofano e localizza il filtro. Rimuovi la clip e o la vite dalla scatola filtro. Rimuovi la copertura ed il filtro usato. Controlla il filtro. Se lo trovi danneggiato, contatta la tua officina. Lo sporco potrebbe danneggiare il tuo motore. Con uno strofinaccio umido pulisci l'interno della scatola d'aria e all'interno del coperchio. Installa il nuovo filtro nella giusta direzione e controlla che sia fissato in modo sicuro. Rimonta la copertura della scatola d'aria. Riavvita la clip e o la vite della scatola d'aria. Controlla che tutte le parti siano state fissate nella maniera corretta. Accendi il veicolo e controlla il corretto funzionamento del motore. Butta il filtro usato nei rifiuti. Valeo suggerisce di cambiare il filtro dell'aria ogni 15.000 km o ogni anno durante la manutenzione dell'auto.